Ben trovati, ciao a tutti, come andiamo? Benvenuti e bentornati, sono Leonard e oggi siamo sul nuovo episodio della serie di Scribblenauts Unlimited. Allora, vediamo un po' che cosa dice questo. Ha paura che ti picchi uno palesemente più piccolo di te, sia d'età che di statura, e tu se il pugno sulla testa lo inchiodi per terra come se fosse un martello con una vite. Oh. 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 Grazie a tutti. 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 E... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.